Tra meno di due settimane, palla a due per la prima di campionato. Il coach è soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra fin qua? Assolutamente sì. I ragazzi hanno mostrato grande voglia, grande abnegazione al lavoro. Si sono impegnati tantissimo sia con me che con Valerio di Riddo nella parte atletica. Sono soddisfatto. E' soddisfatto anche del roster a sua disposizione? Sì, abbiamo costruito una squadra per quello che volevamo fare durante l'anno. Penso di aver messo insieme a Sergio Leonardo su una squadra come volevo io, per gli obiettivi che ci siamo prefissati, ossia quelli di entrare nelle prime otto senza barare tanto alla posizione in classifica, anche se logicamente cercheremo di fare il meglio possibile. Tutti i ragazzi volenterosi, innanzitutto, con grande determinazione. Poi da lì andiamo a vedere cosa saremo capaci di fare tecnicamente e tatticamente. Vuole darci un pronostico per la prossima stagione. Quali sono gli avversari più ostici che il Bicelli troverà sul suo cammino? Credo che Agrigento e Martina Franca sono due squadre a attrezzare per fare tanto tanto bene. Ma ci sono altre squadre come Palestrina, Rieti, importanti per fare bene in questo campionato. Pronostico in tutti i sport, ogni intervista che si ascolta non ne fa mai nessuno, perché credo che nello sport il pronostico non sia una cosa possibile. Tutti ogni volta promettono abnegazioni al lavoro, promettono di dare il massimo e questa è l'unica cosa che realmente si può promettere. Nel senso che un allenatore, quando sa di aver dato tutto se stesso e quando sa che una squadra ha dato tutto quello che ha, quella per me già è una vittoria importante. Quindi io quello che dico è che questa sarà una squadra che darà battaglia sempre contro tutti, contro i più forti, contro i più deboli. Poi pronostico, piazzamenti, questo qui non lo posso fare. Nel senso che è una cosa secondo me non possibile, altrimenti saremmo tutti bravi a investire nelle schedine. E il suo primo anno qui a Bicelli e come ha trovato l'ambiente? Le piace? Bene, sono molto soddisfatto anche di questo. Una società con grande passione, dirigenti bravi, competenti, mi danno possibilità di mettere in mostra quelle che sono le mie capacità come allenatore, come uomo innanzitutto. Mi sento molto molto soddisfatto anche sotto questo punto di vista. Come sta procedendo la preparazione in vista del campionato? La squadra ha trovato già la sua quadratura e la giusta amalgama? Beh, sicuramente stiamo lavorando bene, forti, intensi. Coach Parrillo già dal primo giorno ci ha detto più o meno quello che dobbiamo fare. Secondo me la squadra sta rispondendo bene. Io spero che quest'anno di fare un bel campionato. Penso che quest'anno la squadra, dopo i risultati così e così dell'anno scorso, possiamo solo che fare bene. Quali sono le motivazioni che hanno convinto Andrea Storchi a tornare qui a Bicelli? Sicuramente ormai a Bicelli sono di casa. Poi quest'anno mi hanno anche affibbiato questo ruolo importante del capitano. me lo sono preso perché penso che sia anche un momento giusto per questa cosa. E quindi è bastato una telefonata e sono tornato all'ovile. Quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione? Beh, sicuramente a livello personale, come ogni stagione, crescere sempre e mettere sempre qualcosa in più rispetto all'anno passato. Come ti dicevo, quest'anno ho questo ruolo e voglio lavorare su questo discorso. Ho l'obiettivo di cercare di trascinare questo gruppo. Insomma, io penso veramente, a parte il discorso ambientale, che ormai ti dicevo, che anche se sono di moda, la propria Bicelli dopo tanti anni sono di casa, vivendo sempre qua, avendo giocato in zona. Ormai sono sei anni che sto qua. e quindi penso proprio di avere la maturità giusta per poter dare sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista umano quello che serve a questa squadra. Poi chiaramente è un gioco di squadra, non è il tennis. Io sono un mattone, una parte del gruppo. Se tutti quanti riusciamo a trasmettere e mettere al 100% le nostre possibilità quello che facciamo adesso in preparazione, in palestra, la domenica per tutto il campionato, penso che il pubblico di Bicelli si possa divertire. Proprio a proposito del pubblico, il capitano che messaggio vuole lanciare ai suoi tifosi? Io sto facendo il PR praticamente in sto mese. Sto dicendo a tutti quanti le persone che incontro di cercare di venire al palazzetto perché il palazzetto è grande. A Bicelli, come tu ben sai, è la calcio quello che tira di più. Quindi cercare di trascinare la palaganestra è difficile. Però secondo me sicuramente i risultati possono aiutare questa cosa. Noi quest'anno secondo me abbiamo tutto che da guadagnare perché l'umore è abbastanza basso per quello che è successo l'anno scorso. Quindi secondo me può solo andare a salire. Io l'invito è a tutti i biscelliesi di venire al palazzetto la domenica quando giocheremo le partite perché penso che si possono divertire. Sarà una domenica un po' diversa.